Intervista di fine giornata dopo questa trasferta a San Benedettese. È stata una giornata dura, ma bella. Il Presidente ha fatto io, ribadisco io sono il Presidente, ho fatto una gara intelligente e accorta arrivando al tempo che avevo prefissato. Giombetti, molto bravo, è arrivato addirittura... Aspetta, aspetta, Giombetti ci pensa a lui a parlare. Un minuto e mezzo davanti a me. Il solito Giuseppe Pierini, un'ora e 31, leggermente deludente, perché io sicuramente pensavo che sarebbe stato al di sotto di un'ora e trenta. Poi veramente la persona che ha deluso di più è stata Lorenzo Gori, con una prestazione veramente allucinante. deludente, partendo troppo forte e dopo 11 chilometri ha visto la Madonna, Gesù Cristo e tutti gli angeli in colonna. Ma c'è a un certo punto la messa, eh? Quanto è la messa? Cioè, hai visto che c'è una messa? Un'ora e 28, veramente, la prestazione. No, no, no. Ma c'è un'ora che a destra. E' evidente. Comunque... Ma Giombetti che vorrebbe postare le sue cose su internet... Purtroppo una rapida a mano armata gli ha portato via il cellulare e tutti i suoi ricordi. E' ripresa, grazie. E quindi si è ubriacato al pranzo per la delizione. Poi vorrei ringraziare la Michela che sopporta ancora Lorenzo e ci ha diriziato della sua presenza. Grazie. Ho sentito che presidente... Grazie.